Anche al solo pensiero Centro spirituale frattocchie attraverso flora a cura di VB Guida L'uomo deve imparare a conoscere se stesso allontanando da sé tutto ciò che è male e far sì che ogni suo atto sia una fonte di sincerità un pronto soccorso per il fratello che ne ha bisogno è un amplesso d'amore per tutti Tutte le azioni da effettuare come moto sono prima pensate e poi esaminate nella coscienza individuale che è lo spirito incarnato e dopo aver preso conoscenza di quello a cui si va incontro si attua a questa azione sia nel bene che nel male Immediatamente sentiamo in noi la risultante di quella azione che va ad incidersi nella nostra anima Tale incisione è sempre effettuata anche al solo pensiero di emanazione e riflessione Quindi occorre sempre essere vigili nei nostri pensieri prima ancora che le azioni si manifestino Essere furbi come serpenti e vigili con occhio di aquila per escrutare nel profondo di noi stessi Tutto si può fare, tutto può essere fatto perché l'uomo è libero sia nel pensiero che nell'azione ma nulla deve essere rivolto al male dei nostri fratelli e di tutti gli esseri viventi sulla terra e di tutti i nostri fratelli e di tutti i nostri fratelli